L'innovazione è uno dei pilastri del PNRR insieme alla transizione ecologica, insieme all'inclusione e alla coesione. Adesso vanno raggiunti gli obiettivi per ottenere la seconda e la terza trancia di finanziamento. L'idea di questo convegno era proprio presentare progetti che sono stati attuati, che sono stati realizzati per spronare tutti i nostri imprenditori, ma anche i tanti giovani che hanno delle idee innovative, a metterle a frutto, quelle idee, facendo rete nella ricerca e sviluppo, facendo rete tra istituzioni e tra aziende che lavorano sul territorio.